questo per me eeeh guarda il segno di atto mamma mia segue leo segue un po' più lontano è c'è il lantino è e davanti abbiamo e poi c'è l'antico sceghiro sceghiro ma sbattuto un po' un lito posto all'autor vediamo se non dovrebbe aver fatto nulla perché si è appena appena appoggiato bravissimi brava buona buona malato Grazie a tutti! Grazie a tutti!